leggiamo una monnata una monnata significa togliere l'erba con le faccio con le mie mani guardate le mani braccianti agricoli con due mani vedete ecco anche qui eventualmente ci mi passo con la sapetta ecco qui proseguiamo di qua qua ci vuole agilità forza resistenza pensate un po quanta fatica faccio guardate qui o ecco la ciammaru qua la fa bene queste sono le mani di un 60 50 68 anni ha fatto una vita di seghi peci ma sarà messa la strama non si dice la strama la strama quando si è l'erba l'erba che si mangia gli animali e questo non faccio cavallo peco la vacca ci stanno per se mania ecco qui guarda che mucchio ma facciamo chi ma conviene a farlo di qua c'è qua l'erba più bassa però quando è piccola bisogna mostri di più con le mani ecco qua ecco è piuttosto ha visto la ramegna qua questa è più dura guardate vedete guarda questa è proprio più dura allora qui invece più tenere e quindi si procede più velocemente ecco qui ecco qui ecco ci sta questa guardate questa qui allora togliamo prima i fiori che è più grande vedete e dopo si procede a quella più piccola ecco qui a questo mischiato grande piccola questa piccola si fa veloce però questa è più fatica allora guardate che mucchio che sto fatto qua e qua qua sto a mangiare per le cose per 5-6 pecore guardate vedete che mucchio allora qui c'è molto da fare quanti metri quadri ho fatto da qui a qui avrò fatto forse 9 metri quadri nello spazio di 3 minuti e mezzo no quindi 90 metri quadri 35 minuti sì ma qui c'è molto molto da fare le voglio tutta questa tutta questa guardate qui questa l'ho tolta ieri vabbè la voglio di lavorare ce l'ho il tempo a disposizione ce l'ho e guardate qui qui quando erba devo toccare non ci sono problemi ci sono le mie mani